Continua il successo della personale di Gerardo Di Fiore alla Biblioteca di Giuliano. Oggi i commissari Giombini e Guetta hanno visitato la struttura in compagnia del direttore Coppola e l'organizzatore della mostra Franco Riccardo della R-Project. Biblioteca di Giuliano, una importante mostra di un artista giulianese di fama internazionale. Cosa ne pensa? Non posso che pensarne benissimo. È una delle iniziative che il Comune, in particolare la Commissione, si è premurata di insomma sollecitare, di promozionare l'inizio di una serie di altre iniziative, scusate il bisticcio di parole, che contiamo di sviluppare nei prossimi mesi. Di Fiore Giulianese di nascita è considerato il massimo esponente della scultura su gomma piuma, materiale insolito da lui stesso utilizzato per la prima volta, materiale che simboleggia la condizione dell'uomo moderno, vittima della sua fragilità e allo stesso tempo teso verso una dimensione sempre mutevole. È la prima volta che la biblioteca di Giuliano ospita un evento di tale portata, patrocinato, o meglio, come amano dire loro, matronato dal madre di Napoli. La mostra sarà visibile per tutto il mese di marzo.